È un piacere essere qui a Trento presso la Fondazione Bruno Kessler, una fondazione molto importante che lavora in diversi settori, si impegna tra l'altro in un settore essenziale per la nostra trasformazione non solo economica, ma anche sociale, il tema dell'intelligenza artificiale. Dentro il lavoro della Fondazione abbiamo anche l'Istituto Italo-Tedesco per la storia, anche qui credo che sia importante per capire il futuro dobbiamo sapere e conoscere il nostro passato, la nostra storia, studiarlo con impegno e con profondità, se no non possiamo guardare con conoscenza verso il futuro, credo quello che stiamo vivendo in questo momento anche in Ucraina lo dimostra più che mai, quanto importante sia la storia anche per capire le realtà, le verità su quello che succede e anche per poter scoprire, smascherare le non verità che ci si offrono ogni giorno. Per cui è importantissimo il lavoro storico che facciamo, è importantissimo il lavoro della Fondazione Bruno Kessler.